In questo video, quest'oggi, qualcosa di leggermente diverso. Iniziamo a guardare un piccolo video. Un video che servirà per introduzione all'argomento di quest'oggi. Un problema comunissimo in tantissimi di noi. E io sono il primo ad alzare la mano per questo problema. Essenzialmente non riusciamo a vedere i nemici. E cos'è se hanno i cheater dell'invisibilità? Come fanno i pro player a vedere sempre e a mirare nella direzione giusta? Con l'inclinazione giusta? Avendo la posizione giusta? Ma chi sono loro? Non lo so, ragazzi. Non lo so. Sono dei mostri, sono dei maghi, sono dei maestri. Sono essenzialmente un po' di tutto. Ma anche e soprattutto tanta, tanta intelligenza. Perché parlo di intelligenza in questo video? Beh, perché essenzialmente il problema del non vediamo un nemico ha a che fare essenzialmente con tre problemi ben distinti. Primo problema, e senza ombra di dubbio, quello dei settaggi. Infatti quest'oggi andremo proprio a vedere che settaggi fare sulle nostre console e sui nostri PC. Il secondo punto di questo video invece ha a che fare con la velocità. Essenzialmente è il colpo d'occhio, se così possiamo definirlo, ok? L'agilità, i riflessi. Abbiamo fatto un video dedicato in questo canale ai riflessi e di come essi siano importantissimi e di come essi si possono allenare. Ma con gli esempi di quest'oggi penso di mettere in risalto molte pecche di tantissimi player di Apex. Terzo punto è perché non utilizziamo il cervello. Essenzialmente avete appena assistito a quel minimo spezzone di video e vi sarete accorti di come il player non si è accorto della Bangalore in parte a lui e soprattutto non si è accorto dei rumori intorno a lui e non sa neanche da dove cavolo gli hanno sparato. Essenzialmente perché manca della comprensione, della freddezza, lucidità, quindi processi mentali che lo aiutano. Dette in parole povere, non ragiona una bega, non hanno ragionato neanche lontanamente in quel precisissimo momento. Ma anche questo si può correggere. Con sforzo, astuzia, costanza, sicuramente possiamo farlo. Un video creato appositamente per me, ma sono sicuro che sarà utilissimo anche a tantissimi di voi. Ragazzi, iniziamo subito perché il video di quest'oggi è davvero, secondo me, una mini bomba. E come dicevo nell'intro di questo video, il primo punto, senza ombra di dubbio, è quello dei settaggi. I settaggi sono importantissimi. Parleremo del settaggio PC, dove mi trovo io in questo preciso momento, e parleremo anche del settaggio su console. Essenzialmente posso dare dei consigli anche in quel versante. Allora, il primo consiglio che vi posso dare sul mondo PC è, senza ombra di dubbio, quello di ottenere il gioco più fluido possibile. Cosa voglio dire con un gioco più fluido possibile? Ovviamente, evitare che nel background del vostro PC ci siano altri processi. In questo preciso momento state vedendo la gestione attività del mio PC, e diciamo che dal punto di vista del processore, della RAM, il PC è completamente e totalmente dedicato al funzionamento di Apex. Questo gli permette, attraverso scheda grafica, processore, RAM, hard disk, eccetera, di cercare di spingere il gioco verso i suoi massimi frame per second. In questo caso, per me, andiamo sopra i 100, perché ho un monitor a 144 Hz, quindi che mi permette di spingere la grafica fino ad avere 144 frame per second, con il modo tale da avere l'esperienza più fluida in assoluto. Ecco perché il frame, la fluidità, si parla tanto di 60 anche su console, sono così importanti. La fluidità, che dobbiamo avere in questo videogioco, per via di come è portato, per via del fatto che sia estremamente veloce, adrenalinico, e che non ti puoi permettere, diciamo, neanche un minimo di perdita, senza ombra di dubbio, porta i giocatori su console ad avere almeno 60 frame per second. E chi ha il PC, in base alla caratteristica del proprio PC, arrivare molto oltre i 60 frame per second. E come lo si fa anche? Beh, lo si fa anche impostando, ad esempio le risoluzioni, oppure andando a toccare alcune caratteristiche che vanno a pesare appunto sulle performance. La grafica sappiamo che è gestita dalla scheda grafica, più noi mettiamo, che ne so, qualità dei dettagli è alta, qualità delle ombre dinamica è alta, più qualità degli effetti è alta, più andiamo ad aumentare il filtro anisotropico, più andiamo varie ed eventuali a fare un po' di tutto, senza ombra di dubbio, questo va ad appesantire la scheda grafica, ripeto, in base sempre alle potenza della scheda grafica che avete sul vostro PC, e quindi va a ridurre in maniera importante i frame per second. non deve succedere, ed ecco qui il primo tips, senza ombra di dubbio, dovete cercare di avere una connessione che riesca a tenere bene le vostre partite, parlo di un ping inferiore ai 50, e soprattutto dei frame per second che possono spingere ben oltre. Per quanto riguarda la controparte console, obiettivamente vi consiglio di non giocarlo in alte risoluzioni tipo 4K, fate come molti, utilizzano ancora la risoluzione Full HD per appunto ottenere dalla console, ad esempio PlayStation 5, Xbox Series 1, l'opzione Boost, e quindi togliamo potenza di calcolo alla console nella risoluzione, e abbassiamo quindi la risoluzione per ottenere un boost dei frame per second, una cosa davvero molto importante. Ma i settaggi non sono finiti qui, i settaggi poi passano tranquillamente anche per quello che può essere mouse e tastiera, in questo caso, voi vedete in questo preciso momento una sensibilità del mouse a 2, potete anche andare a toccare la sensibilità del mouse quando è in modalità mirino, ma se avete determinati tipi di mouse e determinati tipi di software all'interno del vostro sistema, potrete controllare, vedete che ad esempio cambia colore, ok? Questo permette di settare la sensibilità del mouse in base a varie questioni varie ed eventuali. La sensibilità del mouse è personale, dipende tantissimo da come noi ci muoviamo, per quanto riguarda i joystick, la stessa identica cosa. Potrebbe essere in un joystick che la telecamera oppure l'analogico per i movimenti abbiano due sensibilità completamente differenti. Eh, malucco, ma questi sono dei discorsi che tutti sanno. Sì, tutti sanno, ma che in pochi... Vedete, quando avete aggiustato una, due cose, quattro, cinque cose e poi vi mettete... Oh, scusate. Poi vi mettete a fare le prove. Questo movimento deve essere fluido. Assolutissimamente fluido. Non ci deve essere in alcun modo un calo dei frame. Il vostro mouse, la vostra sens, è totalmente nelle vostre mani. L'avete provata più e più volte e quindi sapete perfettamente quanta corsa il mouse deve fare per fare, ad esempio... Il gioco non ha nessuna limitazione, va bello spedito, i frame vanno tranquilli e spediti e allo stesso tempo, come avete visto, sai perfettamente che il mouse o il joystick fa il suo movimento in maniera estremamente fluida. Questa è una prima parte della base, come dico sempre, per partire. Le basi sono molto importanti e ogni volta in molti mi criticano perché ripeto le stesse cose, ma solamente avendo una sens buona. Aver controllato che intorno a noi non ci siano rotture di scatole, che la connessione intorno a noi funzioni o che abbiamo e stiamo utilizzando la nostra console, il nostro PC al massimo del suo potenziale e appunto per non avere impacciamenti di sorta all'interno del videogioco, questa è la base. Ma per alcuni di voi queste sono solo cazzate che tutti sanno. Bene, perfetto. Ora andiamo nel prossimo discorso che è ancora più potremmo dire così campato all'aria come i riflessi. E adesso parliamo dei riflessi. Perché dico che è un argomento ancora più fumoso rispetto a quello di prima perché quello di prima avete le basi, le possibilità per potervelo gestire voi ed essenzialmente con poco sforzo iniziate già a ottenere tanto. I riflessi in sé per sé sono molto più complicati sia da gestire sia da imparare. Ribadisco in questo canale abbiamo toccato gli sport, i videogiochi in tante loro qualità senza ombra di dubbio all'interno di questo video abbiamo parlato dei riflessi e abbiamo imparato anche in quel video che i riflessi non si applicano solamente nei nostri amati videogiochi ma si applicano anche a tantissime altre questioni come ad esempio la nostra vita quotidiana potrebbe essere tranquillamente quando siete in macchina e quindi il riflesso di premere il freno quando davanti a voi qualcuno è in chioda quello è un riflesso ma non è un riflesso della paura del tipo oh ma è un riflesso dovuto a un insegnamento quando la macchina davanti a te frena tu freni questo è il riflesso i riflessi possono essere in qualche modo istinti senza alcun dubbio ma possono essere anche imparati i riflessi che state vedendo felini dei player indubbiamente non derivano solamente perché sono usciti dall'utero materno e hanno ottenuto questa incredibile abilità sono stati portati avanti ci sono tantissimi esercizi c'è ad esempio l'esercizio dei riflessi di google oppure appunto c'è quell'esercizietto che vi ho fatto vedere prima che ha a che fare anche con la mira nella quale se il videogioco è fluido allora anche le nostre reazioni tendono a non essere troppo meccaniche e riusciamo a gestirle con se così possiamo definirla più velocità e soprattutto meno trattenimenti tutto parte però ovviamente come dicevo da un sistema bello fluido perché se all'improvviso durante un momento come questo il titolo non dovesse funzionare correttamente e come vedete i riflessi girare a destra e sinistra muoversi sparare crauciarsi per annullare l'animazione muoversi andare a prendere fare un armor swap e poi analizzare la situazione tutto questo sì il sistema non fosse fluido io vi chiedo e vi domando ma come pensate assolutissimamente di farlo dopodiché ovviamente arrivano i riflessi i riflessi che non sono solamente una capacità di rispondere ad uno stimolo ma sono anche la capacità del player di accorgersi di quello che gli sta intorno e che sarà il terzo punto di questo video e cioè la logica e possiamo dire l'intelligenza il saper definire la vostra posizione e quindi capirne immediatamente causa effetto c'è questo c'è ovviamente la velocità ci sono ovviamente gli esercizi ma c'è anche senza alcun dubbio il colpo d'occhio anche qui il colpo d'occhio è dovuto essenzialmente da un fattore tecnico quindi parliamo di pc e console monitor ok e anche da una questione di cosa noi pensiamo o ci alleniamo per appunto migliorarci in questo videogioco vi faccio un esempio proprio stupido 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 per misurare i vostri riflessi trovatemi quando essenzialmente anche questo è un esercizio che va a misurare il colpo d'occhio essenzialmente questa immagine sebbene venga utilizzata per scopi ottici ma viene utilizzata anche per comprendere come il vostro cervello trova il determinato obiettivo il vostro cervello parte da qua e fa tutta una riga così come una macchina oppure il vostro cervello è tutto confusionato prima vede il battello poi vede questo o poi vede quest'altro oppure ancora il vostro cervello si basa su alcune questioni come ad esempio il rosso e poi segue appunto tutti gli obiettivi rossi ragazzi questo sono diversi tipi non solo di riflessi ma anche nel modo in cui il vostro cervello gestisce i riflessi il riflesso in sé per sé come dicevo non è solamente paura capacità di reagire in maniera fisica a qualcosa di imprevisto ma può essere anche e tranquillamente la capacità del tuo cervello di lavorare sotto stress ai 5 secondi per trovare Wondo come agisce il tuo cervello se già inizia a pensare di avere 5 secondi ci muove così velocemente i tuoi occhi iniziano a girarsi a destra e a sinistra oppure segui determinati colori come ti ho detto beh non è solamente una questione di allenamento ok ma è anche una questione di logica perché sì punto numero 3 i riflessi sono anche una questione di cervello e di come noi comprendiamo il gioco attenzione anche qui la velocità dei pro player che voi vedete non è solamente dovuta ai loro mouse non è dovuta al fatto che i loro riflessi siano nati così dall'utero materno non è solo dovuta a un mouse da 500 euro ma è dovuto anche al modo in cui loro analizzano la situazione e vi ho fatto all'esempio 3 secondi fa di mondo e vi ho fatto ansia dicendo avete solamente 5 secondi bene e lo stesso identico concetto del ehi trovami in 4 secondi il player che hai davanti a te ebbene i player di un determinato livello non si basano solo e solamente su quello che vedono ok o fanno anche bene i settaggi che vi ho consigliato nel punto numero 1 non solo si sono esercitati a muovere velocemente i tasti A e D ma ad esempio riescono a come in questo caso faccio mi pauso a capire perché lo si vede qua in alto a comprendere che appunto sono solamente loro il loro team da 3 e poi c'è un altro team e fin qua tutto chiaro tutto veloce dove sta la velocità dei riflessi di questi player o beh intanto guardano subito la minimappa che è qui sopra di noi e iniziano a leggere la situazione dopodiché la prima cosa che fanno è senza ombra di dubbio quello di trovare individuare velocemente con la vista non solo un player ma tutti e 3 i player che ipoteticamente sono davanti a loro ok perché la squadra potrebbe essere composto da una persona due persone o tre persone quindi fattore logico troviamo immediatamente tutti i player avversari fattore logico nuovo e apriamo un tp fattore logico guardiamo immediatamente dove si trova la prossima safe attenzione è tutta logica fino in questo preciso momento solo che l'abbiamo fatto ad un livello di velocità che quasi inconscio riflesso ebbene si è quasi a questi a questi livelli comunque sia in questo preciso momento ok avete visto si è ritrovato il nemico davanti e non si è fatto prendere dal panico ok ma bensì è già partito con l'arma in mano e quindi non è entrato senza armi è entrato nel tp aveva una cognizione che il player fossero appunto davanti a lui eccolo qua vedete aveva già l'arma non ha annullato per cui conferma ancora una volta il fattore logico di quello che ha fatto e ha iniziato a sparare attraverso il settaggio utilizza la mira micro management e voilà dopodiché non va avanti perché ipotizza appunto che lì molto vicino ci siano dei suoi compagni quindi logicamente quasi di riflesso torna indietro perché perché dovrà curarsi oppure perché aveva visto i suoi alleati che venivano colpiti comunque sia la logica in questo processo e nel prendere il tp di ritorno era estremamente logica e appunto quello che vi voglio dire tutto quello che gli vediamo fare che sembra spinto da solo e puro impulso non è solo impulso ma sono appunto quei comportamenti di riflessi con un pizzico di logica un pizzico di logica quindi sono riusciti a domare l'impulso del del panic shot sono riusciti a domare molto velocemente alcune azioni molto frenetiche e sono riusciti poi a codiuvarli con aspetti logici dove si trova il nemico io cosa devo fare qual è la rotazione giusta e così si sono trovati a essere vincitori nei più dei casi ovviamente insomma non vedere i nemici per me come player di Apex è sempre stato un enorme importante problema era dovuto a un fattore di settaggio si non lo metto in dubbio è dovuto a un fattore del fatto che i miei riflessi sono quelli di una mangusta morta e si non lo metto in dubbio ma senza alcun dubbio tra tutte queste tre problematiche quello che più manca a me e a molti altri player è la freddezza e la logica di portare avanti un fight comprendendo pienamente cosa stanno facendo cosa deve essere fatto e cosa non deve essere fatto una volta che comprendo cosa deve essere fatto una volta che il titolo e il videogioco non mi rema contro con frame ballerini eccetera posso pensare di muovermi più velocemente per quanto riguarda i riflessi puri ovviamente quella è una questione che devo allenare nella mia vita quotidiana tenendo allenato il cervello facendo alcuni esercizi oppure conciliando lo spazio intorno a me per motivarmi a essere più concentrato le temporole povere non mi concentro se intorno a me c'è qualcuno che mi rompe le scatole non mi concentro intorno a me se devo fare se ho già giocato un'ora e mezza e ho sempre perso attività fisica alimentazione analisi di quello che abbiamo fatto senza alcun dubbio aiuta il nostro cervello a rispondere più velocemente e quindi ad ottenere delle risposte migliori se poi ci mettiamo il fattore del pc che funziona e della console che funziona come deve funzionare e ci mettiamo anche un fattore del penso agisco capisco e poi quindi trovo la soluzione migliore io dico voilà il problema del non trovare i nemici è bello che è andato certo richiede costanza certo non è un problema da poco ma lo sapete cosa là fuori ci sono tantissimi player che hanno il mio stesso problema e sono sicuro che con i trucchi di quest'oggi vi ho dato una mano a me senza ombra di dubbio se volete altri trucchetti beh che dire vi aspetto in un prossimo megavideo sempre qui qui sui sport di tapation se il video vi è piaciuto ehi sotto un like e un'iscrizione e ci vediamo qui sui sport ciao 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 ciao